ciao a tutti ragazzi eccomi qui con Kaledon ciao ciao ma andrea ho sistemato finalmente le fornaci viene a vedere ho fatto tutto elettrico hai visto che ho messo due cosi d'oro si sono comodissimi allora l'oro a qualcosa serve guarda ho fatto tutto elettrico ho messo qui un doppio generatore uno in quest'angolo uno qui quindi usiamo sempre il carbone eh ma è tantissima roba eh lo so sali guarda e qui benedetti i pannelli solari dei miei marroni non toccarli eh ma non prendono luce adesso eh adesso no insomma sai andiamo giù a dormire tre cedere quando funziona e non si possiamo ci siamo solo noi nel set aspetta che io do prendo una cosa di vitale importanza basta vieni a dormire la pappa anana allora praticamente no aspetta sto lanciando biscotti per in giro per tutta la casa sembra che ti ha attaccato un creeper vieni sennò vengono i mossi dai buonanotte all'orellino ma sai cosa è successo tu pensa che pezzo di cane sto gioco eh praticamente un pannello andava spostato si ho schiacciato il tasto destro con la chiave inglese eh si è rotto come si è rotto poi ho detto mo lo rifaccio per principio non si sono più rotti si sono spostati normalmente quindi ho distrutto un pannello guarda quanta energia che fa guarda che carino guarda il bad box vedi come sale bene bene e niente quindi abbiamo diritto a tre pannelli e ne abbiamo solo due allora la cosa fondamentale che dovresti farti è l'eu qualcosa ah la lazzurita ragazzi posso io non mi ricordo mai che ragazzi come si chiama ma dici quello che analizza quanta roba esce da un coso quello lì lo studio ti dice quante cose stai facendo mi serve un elettricircuito quattro fili di coppia e una gluston è tutto dietro di te il materiale elettrico allora un elettricircuito quattro fili ah ragazzi io lo faccio con il tin l'empty cell qua che mi servono ne abbiamo due e tin rintintin empty cell vai ah c'è qua andrei a lavorare mettiamoci qui guarda guarda il crafting che cos'è ah e cosa fa cosa e ti dice quanta corrente passa vediamo ragazzi ai 2,18 e u dal filo qua più corrente passa più perché della no c'è qualcosa che non va però non sembra dell'acqua non passa filo a me non mi sembrava funzionare con l'impianto infatti adesso guardate ragazzi metto 8 celle qui no scusate quante ce le devo mettere insomma sto facendo ragazzi la la cella che serve per impianti solari che sono un delirio in questa edizione ok mi serve la l'azzurite dust che si fa mi serve questa quindi 22 empty cell mettere qua ah rovi è una cosa devi stare attento aspetta voglio scendere giù con te vedere qual è il problema un attimo solo carico carico questa ok benissimo carico la centrifuga giuro venire no il problema è che tu hai messo un impianto unico per attaccato a tutto e non va bene devi separare un po' le correnti perché è sicuro e sì perché questo si sta riempiendo cazzo produce una scemenza di energia rispetto ai pannelli solari e costa anche una minchiata quindi dobbiamo separare gli impianti e per forza ogni generatore fai suono no perché tu hai attaccato tutto a tutto basta che fai così toccate guarda e come faccio a guardare e se le tu il river dammelo che lo guarda che lo guarda anche io butta fendere una fornace sai che non c'è niente da macerare e la smeraldo non si macera e guarda c'è una cesta piena qua di qualcosa sì al secondo testo è stato fermo silver si macina sì ok ok adesso la 40 arriva fammi vedere con quella geggi lì dammelo in mano aspetta tu butto qua e quanto ne arriva tasto destro sì 399 429 57 si capisce cambia sempre ok e qui quanto ne arriva a questo cavo qua 10 arriva a zero e per forza stai ciucciando tutta con qualcosa ma ma no no è perché se i macchinari sono fermi lui non e sta andando questo macchinario sotto qua e con che cosa va cioè ma scusa ma come fai a farli collegare sti cose ah hai messo il filo così sotto certo e ma no ma perché tu devi cliccare non sul macchinario sul filo sì quello che ho fatto esattamente quello che ho fatto dammi il coso che controllo io eh arriva a 11 18 ok quindi più potente di questo qua va bene benissimo queste polveri ragazzi non so ancora cosa servono vediamo un po' scusa come faccio a vedere a cosa serve un ingrediente tipo questa pirite dust ah beh allora io questo lo metto lo metto lo metto qua tasto all for dust allora ehm faccio il bacio sul fuori con sta roba oh bene poi cosa abbiamo qua abbiamo una calcium shell vediamo cosa serve la calcium shell mi dai a niente scusa ma come si fanno le cover cover ci saranno poi abbiamo una sodium shell che cavolo servirà oh ragazzi dove sono dove sono no più po' le idee cosa stai cercando di no anche se non mi dici cosa scelchi le coperture per i fili eccole qua non basta l'energia cos'è facete cobblestone slab comunque andrea così come hai messo tu l'energia non basta come l'ho messo prima io non si fermava mai non so perché eh boh ho gli attacchi guarda eh vedi è ripartito no no non ce la fanno non basta l'energia eh cosa ho detto eh non mi hai detto niente no questo è un fail però niente ragazzi servirà un altro pannello solare sai cosa non ci sono i copri fili eh perché ci sono dei cosi con dei ragazzi la centrifuga mangia tanto è per quello però mi serve per fare gli altri pannelli solari esatto vabbè non ci sono i copri fili sai cosa cosa vorrei fare io sì io continuo la mia industria sono felicissimo la logistic pipe e se l'è sì quello che fa Luke per ordinare gli oggetti che autoordina uno autocoso ah ma è un bel delirio stiamo qui fino a notte e cosa vuoi fare oggi minecraft ecco l'abbiamo capito anche perché nessuno mi dà segni di vita dal resto del mondo però il problema è che avrò 196 ore di video beh scoprirò cosa farci allora Andrea vedi io aspetto che la centrifuga si ferma e vedi quanta bella roba tutto in funzione ti piace? bello no? sì sì bello bello quando si ferma la centrifuga mi dai la chiave una allora io voglio fare una e fatela al volo la chiave aspetta una cosa figa sarebbe anche andare a trovarci ma poi ci andremo prima o poi il dungeon? eh il blaze ah no il dungeon l'ho trovato io se vuoi non te l'ho detto nella puntata precedente mentre scavavo ragazzi ho trovato il dungeon quello con i binari robin ah bello e mo me lo dici casetta e se vuoi possiamo andare a trovare quello lei andiamo a far scordare i binari beh così ci passa un po' di più il tempo se no questo annoiano tutti intanto finisce tutta questa questa bontà di dio qui quindi la roba si cucina qui sì perché no questa è una discesa rapida ragazzi eeeh però così Roby mi fa cagare quello che hai fatto così cosa? eh minchia con tutti i fili scoperti e fa niente questa è casa mia qua sopra non preoccuparti no no questa è casa anche mia sopra qui la mia cameretta la faccia incasinata quanto mi piace ma se no ci sono i pannelli per coprire i fili come fai? eh sistemiamo col doppio blocco no non voglio buttare giù tutto no non ho buttato giù tutto all'arco esterno i fili li fai passare da fuori non ci credo beh ragazzi a me basta fare i miei pannelli solari dopo tutto sto tempo sono contento con i miei pannelli solari comunque siamo proprio delle testine cioè abbiamo messo di tutto eh? tranne le cover cioè le cose? le cover quello per coprire i fili ma non ci sono le cose si ma abbiamo messo di tutto in questa cosa ma non è che si chiamano plate no no non è che si chiamano platter no non è che si chiamano slab no ci sono solo delle cover con un tubo dietro che non ho più po' l'idea di cosa serve le facade brick slab queste qui eh non so cosa sia con un cobblestone transport pipe più gravel facciamole e però mi sa che non sono piatti queste io ne faccio una tanto per provare allora un vetro e due cobblestone un vetro e due cobblestone quale stai facendo? il tubo intanto ok ragazzi ho fatto il tubo Roby se vuoi farlo vedere si vai hai visto? si ok poi prendo questo qui quindi questo più questo no ho sbagliato qualcosa ah no cobblestone structure pipe quindi un gravel serve gravel 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 non c'è la gravel c'è di tutto tranne quella vado a prendere la gravel aspetta hai spostato le api sotto? eh si non c'entravano sopra non servivano a niente ok ho preso il gravel ok ho preso il gravel quindi guarda Roby bisogna mettere questo più il gravel structure pipe vedi? si si ok ok poi prendi un coso più questo no sto sbagliando ancora magari è il contrario ah no ce ne vogliono tre aspetta ora prendo l'altra la gravel non c'è la gravel no laggiù ok prendo un 52 sono rotto ok questo ovviamente adesso non sta andando ragazzi perché il pannello solare ovviamente ah ho finito? no non ho finito ok ho fatto quello che dovevo fare poi questo più questo perché non va ancora? stone brick è un stone brick metti in alto a sinistra? no scusa lasciati giù un attimo nell'assembly table autocrafting table devi farlo nell'assembly table no no nell'autocrafting table eh no nella ricetta c'è scritto assembly table tu puoi pensare quello che ti pare ma nella ricetta dice assembly table no a me dice autocrafting a me dice assembly table ciò vi davate gli occhi come fa a dirti autografica guarda la ricetta scusa guarda la ricetta ma qual è il problema? ah assembly table lo serve eh grazie cosa serve l'assembly table a parte queste cose? ah è quella che ho distrutto l'altra volta ma cosa serve a parte eh non lo so qualcosa servirà questo qua si faccia una ricerca ma l'assembly table servono 5 diamanti ce li hai? 5 bei diamantozzi ci sono no io ce li ho ma prima di usarli voglio vedere se mi serve ne ho 20 e ci ho messo 10.000 anni a trovarli magari non serve un cavolo l'assembly table poi se la sposti si rompe eh no si vede che ci vuole una chiave allora serve per fare redstone chipset pipe wire e gates eh no servono questa roba qua no no non serve a niente guarda lascia perdere non la voglio fare no no non è ancora cosa dai vediamoci i diamanti per le cose più importanti vabbè andiamo a sto dungeon che è già perso tempo non ho perso tempo andiamo leu reader lo mettono nel box in dustercraft si poi qua sistemiamo perché mi fa cagare così no non devi sistemare no sistemiamo punto no questa è la mia parte la devi sistemare si 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 punto no la mia parte non la devi toccare insomma io vado in un'altra casa in un'altra parte del mondo ti spacco tutto e io vado in un'altra parte del mondo e io ti vengo a spaccare tutto anche là e io gioco a a ramino no ma a parte gli scherzi robie cioè si vede sotto eh non mi piace ognuno c'è solo eh ma sti fili scoperti fanno schifo c'è neanche a casa mia c'ho i fili scoperti qua devo farli sì perché prima facciamo le macchine e poi facciamo il resto sì ma va bene ma poi visto che io sono il costruttore sistemo i fili ti stacco quello che devo staccare basta che non distruggi tutto è bene la chiave come si chiama la che la french con l'arancione no sì scusami ma comunque non lo devi fare adesso mi fai vedere la tua french l'arancione è dritta dritta e ce n'è due l'arancione è dritta dritta ce n'è una sola ma ce n'è una giallo arancione arancione ce n'è una sola l'altra è gialla e col bronzo si fa dov'è il bronzo coppia coppia ragazzi eccoci qua bronzingot mettiamo via questo potrei macerare un po' di carbone così il maceratore almeno si diverte ma non abbiamo bronzo e no che non c'è bronzo bronzo va affatto bronzo si fa con polvere di tino e polvere di copper ah quindi va messo nel maceratore il copper ma in questo momento vediamo un po' se non non ho né polvere di tino né polvere di copper lo fuse tutto per fare lingotti aspetta fammi vedere se posso macerare lingotti tin dust si ottiene macerando lingotti anche vediamo c'è un mortaio no sto macerando un copper no ma c'è anche il mortaio ma c'è un mortaio flint più ball dai che carino hai capito? cioè tu fai il mortaio e maceri lingotti adesso mi faccio un mortaio ragazzi dove sta la flint qua quindi prima fai una boccia così poi ci mette al fianco flint e hai detto un mortaio ma pensate scusa ma il bronzo si fa 3 di silver e 1 di copper anzi 3 di copper 1 di tin e 3 di copper quello che ho detto io esattamente si ok andiamo dai andiamo 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 già hai perso troppo tempo io non ho nessuna fretta guarda poi non vedo perché stai facendo lo sclerotico eh perché sei non mi fai spostare i fili eh tu l'hai messa a mia tazzina per fare l'alchimista l'ho già persa oh che palle vabbè dai ste robe le facciamo dopo dai eccoci qua mi segui? eccoci qua eccoci qua sì sì hai messo a macerare tutto il copper però scusi vabbè eh andiamo metto a macerare anche tin dai così te lo trovi pronto per il bronze eh qua urge bottigliette siamo diciamo nella cacca più totale ecco è stato esagerato è piene sono tutto giù sotto e vabbè ma che vuoi che succede significa che ti fanno pagare le tasse sulla roba piena sì sì ah vetro 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 io ce l'ho già io le bottigliette fatte le sto andando a mettere ma cos'è sto qua il mortaio si è bloccato il server ancora no? no no il mortaio è quello che serve per fare quella roba che ti ho detto io eh sì è tutto bello pieno guarda vabbè non ci mancherà il materiale per fare binare va bene sì lascia fare ne abbiamo in ultra abbondanza ne abbiamo più che abbondanti il mortaio te lo mettono in autocrafting eh allora Andrea io mi faccio una corazza così magari evito di morire come un imbecile faccio i pezzi che mi mancano io so solamente le scarpette e quello mi mancano i pantaloni e la testa ma vediamo se c'è qualche corazza astrosa immagini sì la exobots che co... nooo gold nuggets questa me la faccio però te ne da uno e la papina exo 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 mi servono quanto ferro abbiamo? ce ne è tanto? sì qua me l'ho rubo tutto scusami ma cosa vuoi fare? aspetta aspetta calmati cosa vuoi fare? no io non aspetto ecco dai aspetta ti colpisco ti colpisco cosa vuoi fare exo? exo corazza test plate cioè devi usare tutta sta roba sì 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 fammela fare cioè tu vuoi usare 8x8 64 pezzi di ferro sì è palloso lo sai no? e fammi fare ti prego e fammi fare per forza usino tutta la roba di Oscar in 10.000 anni per te perché non è vero allora vediamo un po' quindi questo è il cappellino scusa hai tolto tutto è ferro sì ma non c'è più ferro Andrea no ce l'ho qua io ma quanta ne hai presa? eh non so tanto ah la boxeat non si fa nella fornace normale mentre il goldron sì dove si cuoce la boxeat? ma perché ho fatto una fornace ma perché ho fatto una fornace vabbè la boxeat dove si cuoce? nel rock crash o nel macereto o nel macereto maglietta? ecco la boxeat nooo insomma ragazzi il macereto ma la fornace se la metto giù la spacco cosa mi dà? no mi dà la fornace vabbè ho fatto una fornace elettrica devo finirmi la corazza e cos'hai sbagliato scusa? è che mi manca un un gold nugget un exocasis di coso? ferro non c'è più di ferro qua è chiaro che non c'è più ferro l'hai fatto fuori tutto nooo a me il ferro serviva comunque eh fa niente ho scavato aspetta 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 no qua non c'è niente vediamo se è giù bene ma cosa hai fatto col ferro che hai usato fino ad adesso? è la corazza e dov'è la corazza? è sciolo in tasca e perché ti serve ancora il ferro? è perché devo finire i pantaloni e se scusami puoi anche non finirli per adesso? guarda eh non so cosa fa eh non si vede non si vede vede come dei elementi dietro fa proprio schifo ma cosa farà sto corazzo? ma di difesa cosa ti dà? poco però qualcosa farà exo chest play vediamo non se ne parla da nessuna parte bene come non se ne parla da nessuna parte? eh come sempre usiamo nel modo che nessuno ha mai usato beh eh cavolo di tuo sì però non buttami più via materiale a questa cosa qua dai scusami eh no non ho buttato via ce l'ho addosso sì buttato via materiale per niente comunque ragazzi adesso vi saluto un attimo voglio documentarmi su sta corazza ciao dopo ciao ciao Grazie a tutti.